La campagna viticola del 2023 è stata un'annata abbastanza complicata, abbiamo avuto un mese di maggio e un mese di luglio molto piovoso e questo ha determinato una certa pressione di malattie quali la peronospora che ha determinato soprattutto in viticoltura biologica un certo numero di interventi fitosanitari per cercare di ridurre quelli che potevano essere i danni da questo fungo. Ci siamo riusciti, i danni sono molto limitati nell'ordine del 2% massimo e a differenza di altre regioni italiane dove i danni sono molto importanti nell'ordine del 40-50% ci possiamo ritenere soddisfatti. Nel mese di giugno invece, poco piovoso e abbastanza secco, c'è stata la presenza dell'oidio che comunque anche questo soprattutto nelle zone collinari ha destato qualche preoccupazione ma alla fine i risultati sono molto buoni anche su questo fungo. Da tenere alta l'attenzione sempre per quanto riguarda la flavescenza dorata, i trattamenti insetticidi sono stati eseguiti nel mese di giugno adesso è importante ogni settimana, ogni 10 giorni passare nei propri vigneti ed estirpare immediatamente le viti sintomatiche che compaiono di settimana in settimana.